Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Gastai Gueye Sì, sono appena uscito dalla doccia, aspetta, non so se guardarvi di qua, vedi qua Vabbè, mi cambio, poi parliamo Negri, che cazzo c'è la porta? Eh, Reggie, che cazzo è Reggie? È venuto a prendere Omega? Eh, sei venuto a prendere mia nipote, eh? Ma che cazzo pensi di fare? Vedi qua, devi fare botte, no? Scusate Mi ero dimenticato di voi Comunque, ritorniamo alla storia Beh, ovviamente non posso parlarne solo Perché il canale non è solo mio, ma è anche di mia sorella Quindi andiamo da lei Aspetta, voglio fare, sai, come quei youtuber lì potenti che fanno In tre salti sono già lì Finalmente, eccolo O vuoi? Sì, alzati che dobbiamo parlare O vuoi, alzati? Veloce? Sì, ora Cioè, io non so, sempre a dormire sto qua Veloce? Dai, mettiti qua seduto un attimo Aspetta, mettiamo così Così, ok Allora Buongiorno Ciao Lei è così, sai, sempre addormentata Comunque volevo dirvi Che Che siamo mancati Quanto tempo che non facciamo i video su YouTube? Capodanno Da Capodanno Da Capodanno Che è il caso Ho visto Cioè, ho letto i vostri commenti Quando ritornate Fate i video nuovi Ho detto No dai Non posso lasciare il canale Così Quindi oggi Ci avrei pensato E ho deciso di Riattivare Il mio canale di YouTube Con mia sorella Ovviamente Che è il caso Che le Se volete anche Mia mamma sul canale Quello dovete meritarvelo Facendo molti like E mi siete mancati molto Ho detto i vostri commenti Stavo per piangere Aspetta Facciamo una cosa Facciamo come Quei YouTuber lì Avevamo bisogno Ok Aspetta Dobbiamo Prepararci Cosa diciamo Sì Vedi Abbiamo preso una pausa Eravamo stanchi Da YouTube Ok Comunque Non è stata colpa nostra Questa pausa Perché Sono stati Mesi Molto difficili In casa Vero Austin? Sì Noi volevamo fare I video Però Con questo coronavirus Con questo coronavirus Cioè È vero Non abbiamo avuto tempo Che cazzo dici Siamo fatta Quanta Non abbiamo avuto tempo E E niente E ovviamente Facevo Video Con il mio telefono Quello vecchio Si è rotto Anche questo qua È caduto dal secondo piano Ma stra idiota Quello glielo raccantoniamo Lo glielo raccontiamo In un altro video Più avanti Più avanti Ovviamente Noi non sappiamo ancora Che video fare Appunto Come vi ho detto prima Scrivete voi che Video volete vedere Se video normali Video comici Video Ciao Non lo so nemmeno io Tu fammi parlare Dobbiamo Facare Video comici Infatti Qual il caso Ah vlog Se volete anche dei vlog Come ne abbiamo fatto oggi Che professionista Che professionista Che sono E niente È stato molto bello Riparlare con voi Vuoi dire qualcosa Non hai detto un cazzo Cosa vuoi dire? Spirma di domani No Siamo tornati Cioè Cosa aspettate Di nuovo Sì 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 Soprattutto quella Cosa Non so cosa dire Vabbè Non so cosa dire Allora È stato bello Parlare con voi E ci becchiamo Alla prossima Bella ragazzi Ciao ciao Ciao